Ma se la Madonna appare e la Chiesa riconosce queste apparizioni, quindi non parlo delle apparizioni non ancora riconosciute, ma delle apparizioni riconosciute, se la Madonna appare e parla, ci sarà un motivo. Ecco, la Madonna parla come? Ecco, Roma sarà la sede dell'Anticristo e poi ad Achita ha detto se non vi convertirete arriverà un minuto di fuoco e sono parole che hanno un certo peso.